Ancora nessuna traccia di Giovanni Grisolo, il 45enne scomparso da Santa Barbara nel comune di Cavriglia due giorni fa. A lanciare l'allarme era stata la moglie preoccupata, non vedendolo rientrare a casa. L'uomo infatti lo scorso mercoledì era uscito per andare a fare una passeggiata. Con sé aveva portato solamente il marzupio, ma di lui si sono perse le tracce. Sono disperata, ho paura che abbia fatto qualcosa. Cosa pensa possa essere successo? Che si sia sentito male, lui soffre di paraparesi spazi, che magari, che ne so, camminando un po' a lungo a piedi verso Fidine si sia stancato un po' troppo col sole, si è cascato. Non lo so. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla moglie sono così partite le ricerche che non si sono mai arrestate. Vigili del fuoco, coadiuvati anche dall'elicottero Drago, volontari della protezione civile, carabinieri e polizia municipale, lo stanno ancora cercando anche lungo i fiumi. In azione anche droni e unità cinofile. Nel giorno della scomparsa il 45enne sarebbe stato ripreso da una telecamera in zona Restone, mentre stava percorrendo la strada regionale 69 verso Fidine. Il suo cellulare poi ha gangiato l'ultima cella nell'area di Matassino, al confine tra le province di Arezzo e quella di Firenze. In questa zona si sono così concentrate le ricerche. Giovanni, assieme alla moglie lo scorso anno, aveva anche protestato di fronte al tribunale di Arezzo, denunciando il rischio di sfratto dalla propria abitazione a causa dell'impossibilità di continuare a pagare il mutuo acceso. Proprio a seguito di questa vicenda, la coppia aveva dichiarato di aver ricevuto pesanti messaggi minatori, tra cui anche minacce di morte.